Allora oggi ci occupiamo di un altro argomento sui grafi che ci può tornare utile che è quello del calcolo dei cammini minimi o eventualmente dei cicli in un grafo. Sui cicli acceneremo solo qualcosa velocemente. La domanda tipica è qual è il cammino minimo tra un vertito di partenza e un vertito di arrivo e questa domanda ha senso ovviamente solamente se parliamo di un grafo pesato, perché altrimenti la risposta la sapremo già perché basta fare una visita in ampiezza che ci trova il cammino di lunghezza minima, cioè col numero minimo di archi, perché quel punto in un grafo non pesato gli archi sono tutti equivalenti, mentre invece in un grafo pesato non è detto che il cammino di peso minimo abbia il numero minimo di archi, chiaramente perché questi archi hanno pesi diversi tra di loro. Quindi un argomento di visita non è più sufficiente per un calcolo di un cammino minimo in un grafo dove gli archi siano pesati. Poi il grafo può essere orientato o non orientato, non fa questa differenza, ma la differenza la fa se ci sia il peso o no. Quindi questo capitolo ci interessa parlare solamente di grafi pesati, in cui gli archi abbiano un peso che può essere un numero intero, un numero reale. E ci sono, come vedremo, accenderemo almeno vari tipi di algoritmi che possono essere utilizzati per risolvere questo problema. Per definirlo bene noi pensiamo a un generico cammino, il cammino che così sia un cammino l'avevamo già definito all'inizio con la definizione sui grafi, era semplicemente una sequenza di vertici, il peso di un cammino è la somma dei pesi degli archi che lo compongono, e fin qua è abbastanza ovvio, la somma dei pesi degli archi che attraverso. Ovviamente ha senso se ho un grafo pesato perché altrimenti per definizione il peso di un cammino sarebbe il numero di archi, cioè la lunghezza del cammino stesso sarebbe una definizione inutile. E a noi interessa trovare un cammino minimo tra un vertici di partenza U e un vertici di arrivo V, minimo nel senso che minimizzi il peso, non la lunghezza del cammino, se questo cammino esiste, cioè se V è raggiungibile da U. Poi vedremo delle condizioni anomale per cui V potrebbe essere raggiungibile ma il cammino tecnicamente non esiste, ma sono condizioni malate in cui abbiamo cammini di lunghezza più infinito o meno infinito. Per simbologia la lunghezza, quindi il valore di questo peso del cammino minimo lo indichiamo con la lettera delta e la D di delta mi riassume il concetto di distanza. Chiaramente quando parlo di distanza, genericamente in fisica sto sottintendendo la distanza minima, il minimo percorso che devo fare per andare da un punto a un altro è la sua distanza, quello indichiamo qua con delta, tra U e V. Chiaramente il valore di questo delta è la nostra incognita, io non so a priori quale sia questa lunghezza. dal punto di vista algoritmico le domande che mi posso porre sono diverse, cioè teoricamente io ho una distanza tra U e V, ma poi algoritmicamente mi serve calcolare una distanza tra uno specifico U e uno specifico V, uno specifico punto di partenza e uno di arrivo, oppure nel mio algoritmo, nel mio programma avrò bisogno di calcolare molte distanze minime, da tanti punti di partenza diversi a tanti punti di arrivo diversi. È ovvio che se io so fare il calcolo del cammino minimo tra un punto e un altro, faccio n quadro volte l'operazione e troverò tutti i cammini, ma in realtà ci sono già degli algoritmi che sono più efficienti e se mi serve calcolare più di un percorso, se mi serve calcolarne molti, in una passata solo in qualche modo me li calcolano tutti. Quindi distingueremo, quando accenderemo gli algoritmi, tra algoritmi che mi trovano SP, gli shortest paths, i cammini minimi, single source, cioè partendo da un unico punto di partenza e mi trova tutti i cammini minimi verso tutti i vertici di arrivo, oppure all paths, cioè un algoritmo che una volta che gira mi trova tutti i cammini minimi da qualunque partenza a qualunque arrivo. Ovviamente, tipicamente questi secondi saranno più lenti dei primi, ma valgono la pena se il primo invece dovessimo ripeterlo più volte. Non esiste una terza categoria che sia un algoritmo che mi dia un cammino minimo solo tra un punto di partenza e un punto di arrivo. Cioè questi single source mi chiedono di fissare la sorgente, ma mi trovano tutti, tutte le destinazioni, in un colpo solo. Non esiste un algoritmo più semplice che mi trovi invece una destinazione sola. E quindi di fatto i più semplici sono quelli che comunque al costo di trovarne una me le trova tutte, tanto se vogliamo dire così. Quindi esistono solamente queste due categorie. Ovviamente dal punto di vista matematico, sai, quando modelli problemi ti interessa definire che esiste un valore, quanto vale questo valore del cammino minimo. Ma in pratica normalmente, algoritmicamente, mi si interessa anche non solo il valore, ma quale sia questo cammino minimo, quali siano gli archi che devo attraversare per arrivare a destinazione con quel peso. Quindi tipicamente gli algoritmi mi danno questa informazione. Quindi se noi rifacessimo la domanda su questo grafo, la cammino minimo tra S e V, ce n'è uno molto breve che è SUV, che avrebbe peso 9. Però forse ce n'è uno più breve ancora, 3, 1, 4, che ha solo peso 8. E forse non riesco a trovare di migliori. Quindi devo andare a esplorare le varie alternative. Io da S posso uscire con un 3 verso U o con un 5 verso X, 5 più 4 fa 9, se passo da X. Se passo da U, 3 più 6 fa 9. In questo caso questi due percorsi sarebbero equivalenti, con lo stesso peso. Se qua al posto del 4 ci fosse un 1, converrebbe molto di più partire verso X, anche se ovviamente il primo arco è sempre penalizzante perché pesa 5 anziché 3. Quindi non posso deciderlo man mano che vado avanti perché la bontà di una scelta, diciamo così, dal primo passo dipende ovviamente dai pesi degli archi che incontrerò dopo. Per sviluppare un algoritmo che mi calcoli questo risultato, dobbiamo costruire una struttura dati che sia in grado di rappresentare in modo compatto ed efficiente un insieme di cammini. Cioè io sto valutando più cammini diversi contemporaneamente per trovare il migliore. Non posso però pensare di avere una lista di liste, cioè un cammino rappresentato con una lista di vertici e ho più alternative che sono elementi di liste diverse da mettere insieme, da confrontare perché sarebbe molto poco efficiente da usare. Allora si usa una struttura dati molto compatta in cui per ciascun vertice V di destinazione o per ciascun vertice V intermedio, cerco di capire, di chiedermi qual è il vertice adesso precedente, quello che viene prima. Cioè mi dicono io devi andare da Torino a Roma, ok? La mia struttura dati deve memorizzare qual è la città che tocchi subito prima di Roma nel tuo grafo stradale e poi la città che tocchi subito prima di questa e così via. Cioè supponendo, ragioniamo al contrario, supponiamo di avere già noto il cammino minimo. Per rappresentarlo mi basta indicare per ciascuna città qual è quella da cui provengo. Andandoli indietro prima o poi arriverò alla città di partenza. Questo ovviamente supponendo di averlo. Quindi infatti questo P, P sta per precedente, lo scriviamo come P greco per dire precedente del cammino veramente minimo, che però non conosco ancora. Cioè il mio compito è a questo punto non solo più di calcolare la distanza veramente minima, ma anche il cammino veramente minimo rappresentato attraverso i precedenti sul cammino effettivamente minimo. All'inizio non ce l'avrò, dovrò costruirlo via via. Gli algoritmi tendono a costruire questa serie di valori. Qui se lo indichiamo con notazione matematica, se lo indichiamo con notazione, diciamo così, algoritmica diremo che per un determinato vertice mi interessa sapere qual è il peso che ho dovuto spendere per arrivare a quel vertice, quindi il peso del cammino dall'absorgente a quel vertice, e qual è il vertice precedente in questo cammino, cioè l'immediato precedente. Ci ricorda un po' il discorso che avevamo fatto sulla visita in profondità o sulla ricostruzione del cammino per la visita in ampiezza. Allora, in questo grafo il risultato dell'algoritmo sarebbe questo. Dice, proviamo a leggerlo, la nostra domanda era da S arrivare a V. Questi sono tabelle che rappresentano tutti i cammini minimi partendo da S, è l'output dell'algoritmo. E dice che per arrivare a V arrivi con un peso 8, quindi il cammino minimo da S a V ha peso 8. E qual è questo cammino minimo? Per arrivare a V devi passare da X e quindi di fatto devi usare quest'arco e per arrivare a X devi partire da U e quindi devi usare quest'arco e per arrivare a U devi partire da S e quindi devi usare quest'arco. L'abbiamo già visto a occhio, no? S, U, X, V. E' il cammino minimo. E' il cammino minimo. Con questa tabellina io in qualunque vertice mi trovi, sono su Y, il cammino minimo per arrivare a Y passa da V. E poi a sua volta, già lo conosco il cammino per arrivare a V, X, U e S a ritroso. Quindi se sono su Y, il cammino minimo per arrivare a Y passa da quest'arco qui, non passa da quest'arco ad esempio. Questa tabella qua mi rappresenta in modo compatto tutti i cammini a partire dal vertice sorgente che ho scelto, chiaramente se cambia lo sorgente cambia tutto qua, ad arrivare a qualunque altro vertice del grafo che sia raggiungibile. E qua sotto ho anche il valore del peso che ottengo facendo questo cammino. Questo è il punto d'arrivo dell'algoritmo. I vari tipi di algoritmi cercano di costruire questo risultato agendo in modo leggermente diverso. Agendo in modo leggermente diverso, ma sfruttando una proprietà comune che io ho quasi detto prima. Quando ho detto, beh, Y ci arrivo da V, mi dice lui. E poi ho detto, ma a V so già come arrivare, perché l'abbiamo visto prima. Però prima mi sono chiesto come faccio ad arrivare a V come punto finale. Qui mi sto chiedendo, il mio punto finale è Y. Se a Y devo arrivare a V, il cammino per arrivare a V al fine di raggiungere Y, sarà lo stesso cammino, minimo chiaramente, parliamo sempre dei minimi, per arrivare a V al fine di rimanere in V? E la risposta è sì. matematicamente dimostrata. Quindi se io ho un cammino minimo e mi considero un vertice intermedio di questo cammino minimo, allora il cammino che faccio minimo per arrivare a destinazione finale comprende tutti i cammini minimi per arrivare a destinazione intermedie. Lo dico con un esempio. Se io calcolo il cammino minimo per arrivare a Roma e se, e questo è importante, se scopro che questo cammino passa da Firenze, se, allora il cammino che ho passato da Roma e poi ho scoperto che passava da Firenze è anche il cammino minimo per arrivare a Firenze stesso. Se io trovassi un cammino per arrivare, che ne so, ad Ancona e anche questo, non passa, vabbè, ho sbagliato esempio, però, passasse anche questo da Firenze, se ho due cammini per due destinazioni diverse ma a un certo punto hanno una città in comune, un vertice in comune, allora dalla sorgente fino a quel vertice il cammino minimo è identico. Quindi io, quando arrivo fino a un certo punto, è chiaro che devo sapere già che quella città sta sul cammino minimo, ma io posso poi decomporre il problema. Se quella città sta sul cammino minimo, allora a questo punto io devo trovare il cammino minimo per arrivare in quella città e poi da quella città la destinazione, lo posso tagliare come voglio. I cammini minimi si possono tagliare, ricomporre e sono sempre cammini minimi. Cioè non c'è la possibilità che dica se tu devi andare a una destinazione passando da Firenze ti conviene fare questa strada, ma per una destinazione diversa, sempre passando da Firenze, fai una strada diversa per arrivare a Firenze. Non ha senso, no? Non può succedere. E quindi questo è unico. E questa proprietà qua ci permette, innanzitutto ci ha permesso di costruire questa tabellina qua, in cui ho riassunto tutti i cammini senza dire quale fosse effettivamente la destinazione finale. Io come destinazione finale posso scegliere uno o qualunque di questi vertici. La tabellina funziona lo stesso. Quindi il cammino per V, che V sia la destinazione finale o che V sia un punto intermedio, è lo stesso. Altrimenti non avrei potuto compattare così tanto l'informazione su tutti i cammini in un'unica tabella. E se ragiono su quella tabella, in realtà quella tabella, la vado a rivedere, contiene i nomi di archi. XU è un arco, anzi UX, bisogna leggere al contrario. Raggiungo X partendo da U. XV è un arco. VY è un arco. Quindi in un grafo qualunque con 100 nodi, questa tabella conterrà 99 archi. La sorgente no, perché non arriva da nessuna parte, ma a ciascuno degli altri vertici mi dice il vertice precedente. Se è raggiungibile, se non è raggiungibile, non mi dice nulla. Quindi un grafo con n nodi mi identifica su quel grafo che potrebbe avere fino a n quadro archi, potrebbero averne tanti, me ne identifica n meno 1. E questi n meno 1 costituiscono un albero. Connessi, non ciclici. Quindi questo sottografo dei predecessori, sì, possiamo chiamarlo sottografo, in realtà è un albero. Ed essendo un albero mi dà l'albero dei cammini minimi, lo possiamo chiamare così. Non è un albero di visita, è anche un albero di visita. Perché dalle vertici di partenza raggiungo tutti gli altri vertici. Però ha questa proprietà aggiuntiva che attraversando i rami e i percorsi su quest'albero mi trovo sempre su cammini minimi. Che possono avere un numero di archi maggiore, ma una somma di pesi minore. È possibile che questi cammini, che ci siano più grafi diversi, distinti, ma tutti equivalenti dal punto di vista dei pesi. Allora, nell'esempio di prima, l'albero, chiamiamolo pure così, ormai lo sappiamo, dei cammini minimi è fatto così. È molto streminzito, poverino, perché è solo un arco per ogni vertice. Che è rappresentato da quella tabellina dei predecessori scritta sopra. E quindi qua vedo qual è la strada, unica strada, non ho più diramazioni, non ho più cicli, per arrivare dal vertice di partenza a un qualunque vertice raggiungibile del grafo. Adesso, qui, finora abbiamo ragionato, essendo onniscienti e sapendo già qual era il cammino minimo. Proviamo a vedere come costruirlo avendo in mente la proprietà dei cammini minimi, no? Quella che abbiamo accennato prima. Se io ho un cammino minimo, ogni suo segmento a sua volta è un cammino minimo tra i vertici intermedi che ho considerato. E allora, questa proprietà qui, se vogliamo la dimostriamo per assurdo, se ci fosse un altro cammino più lungo di questo tra V1 e VJ, più breve di questo, allora potremmo sostituire a questo il nuovo cammino, accorceremo da V1 VK, e quindi vuol dire che quello di prima non era minimo. Allora, applichiamo questa proprietà in un caso particolare. Spezziamo il cammino minimo sul penultimo vertice. E quindi diciamo che il cammino minimo da S a V, questo, si ottiene col cammino minimo da S a U, supponendo che U sia il predecessore giusto per l'ultimo tratto, più il peso di questo singolo arco. W è il peso dell'arco. Questa è un'identità, anche qua, se siamo certi che U sia sul cammino minimo, giaccia sul cammino minimo, faccia parte del cammino minimo. Però U che cos'è? È un predecessore di V. Predecessore nel caso di arco grafo orientato, oppure adiacente qualunque nel caso di un grafo non orientato. Se U è il predecessore di V che sta sul cammino minimo, vale quell'identità. Se U fosse il predecessore di V che non sta sul cammino minimo, allora questo qua non sarebbe più un'uguaglianza, ma sarebbe maggiore. Cioè avremo una distanza che è maggiore di quella minima. Maggiore al contrario, nel senso che la parte da qua ho la distanza minima, ma quella che calcolo arrivando fino a U' con la distanza minima più quell'arco è maggiore di quello che potrebbe essere, perché ho scelto un U' sbagliato. Quindi tra tutti, ogni volta che considero un vertice e considero tutti i predecessori, mi chiedo quale di questi predecessori rende uguale questa equazione e non maggiore. Cioè io posso provare a cambiare gli U' tra tutti i vertici possibili fino a quando non trovo un valore che è minimo possibile. Adesso è una parola facile da dire perché si basa sul fatto che io conosco il cammino minimo per arrivare a tutti gli U' e questi cammini minimi per arrivare agli U' sono diversi tra di loro, quindi non li ho gratis, però è il singolo passo che farà l'algoritmo. Un passo in cui dice io ho un cammino che magari non è minimo, ma giocando su questa equazione lo riesco a migliorare un pochino, lo avvicino di più a un cammino minimo, giocando sugli U' se posso dirvi così. facendo un'operazione che si chiama, in gergo ho preso il nome di rilassamento di un arco. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non ho questa cosa qua, non la posso scrivere perché delta e delta è il risultato che voglio calcolare, non ce l'ho ancora. Supponiamo però di avere un'approssimazione del delta, quindi la chiamo D con una lettera latina e non una lettera greca. D è un'approssimazione di delta. Se io riesco ad applicare quella disequazione su un'approssimazione di delta riesco via via a migliorare questa approssimazione. Cercando di scoprire, sapendo che D non è esatto, non è delta, non è il minimo davvero, ma magari ci si avvicina, cerco di modificare i predecessori per vedere se riesco a migliorare il valore di D. Vuol dire che in qualche modo io ho calcolato una D distanza minima provvisoria, non è ancora il minimo, per arrivare qua, una distanza minima provvisoria per arrivare qua, una distanza minima provvisoria per arrivare qua, e quindi mi chiederò questa distanza minima provvisoria più il peso di questo arco. Come è messa rispetto a questa distanza minima più il peso di questo arco e come è messa rispetto alla distanza minima provvisoria per arrivare qua più il peso di questo arco? E allora sceglierò l'arco in funzione di quale mi dà la combinazione migliore. E questo mi darà che cosa? Un valore migliore di prima, o non peggiore, di sicuro di prima, della stima della distanza minima per arrivare a V. Quindi ogni volta che io prendo un vertice vado a vedere di stimare se posso cambiare l'arco, se ci guadagno cambiando l'arco entrante, potenzialmente posso migliorare la sua stima del V. E a questo punto migliorando questa stima potenzialmente potrei migliorare anche qualche cos'altro a valle, quindi vado a prendere i suoi successori e faccio lo stesso sui suoi successori. E così via, sugli U, a sua volta mi chiedono sì, ma ho trovato il modo migliore per arrivare a U, andiamo a vedere i suoi predecessori. E quindi ho questa operazione che parte da un grafo con un'ipotesi di cammini minimi, anche sfigata, e non può far altro che considerando un vertice per volta prendere quel vertice di dire tu hai già l'arco giusto oppure tu hai un arco che può essere migliorato. Migliorato partendo dalla stima delle distanze degli altri vertici che hai intorno. E lo ripetiamo fin tanto che riusciamo a migliorare qualcosa. Quando non riusciamo a migliorare più nulla vuol dire che per tutti i vertici del grafo vale questo. Cioè, visto che può essere solo maggiore o uguale e nessuno è maggiore perché faccio tutti i tentativi possibili e immaginabili e non riesco a trovare nulla da migliorare vuol dire che sono nel caso di uguaglianza e quindi ho trovato i cammini minimi se abbiamo fede nella matematica. E allora l'operazione che facciamo è quella di dire partiamo con delle distanze minime stimate infinite. Di sicuro non sbaglio. Facciamo finta che tutti i nodi siano distanza infinita tranne la radice che è distanza zero. E quindi per ciascun vertice non so come raggiungerlo diciamo così metto un null per dire non so come raggiungerlo. Poi applico l'operazione di rilassamento che funziona così prendo due vertici u e v a caso connessi da un vertice v doppio da un arco v doppio che ha un certo peso. Allora vado a vedere verifichiamo quella disequalianza là se vale l'uguale o se vale il maggiore. Per caso raggiungere v con una ipotesi che ho di distanza e raggiungere v passando da u con l'ipotesi di distanza per arrivare a u più l'arco tra u e v quale conviene? Se vale questa maggioranza e quindi vuol dire che questo è più piccolo vuol dire che ho scoperto che per arrivare a v passando da u ho un peso minore di quello che conoscevo precedentemente per arrivare a v non so come ci arrivassi come ci fosse arrivato prima non mi interessa ma in qualunque modo ci fosse arrivato prima a v con una certa distanza adesso ho scoperto che conviene passare da qua perché passare da u più v doppio mi dà un valore più piccolo e allora mi segno che adesso ho scoperto che v si può raggiungere con questa distanza che è inferiore a prima quindi questa distanza la cambio solo se diminuisce parto da infinito e via via cerco di diminuire strettamente diminuisce quindi l'algoritmo converge prima o poi non può entrare in un loop e mi ricordo oh guarda per arrivare a v ricordati che conviene passare da u questi d non sono ancora la scelta definitiva magari la u cambia magari un altro primo intorno cambia diventa più conveniente e allora devo di nuovo cambiare idea su v va bene devo fare l'algoritmo ma a un certo punto convergerà a un certo punto su tutte le coppie u v questo maggiore sarà sempre falso e allora vuol dire che non è maggiore ma è uguale e quindi ho trovato i cammini minimi l'idea è questa supponiamo che v io lo conosca arrivando da u con un peso 2 e finora e quindi avevo scusate da u avevo un peso 4 avevo conoscevo sapevo come arrivare a v con un peso 9 partendo da u adesso scopro che c'è un arco tra u e v di peso 2 5 più 2 fa 7 che è minore di 9 e allora cambio idea dico a v non ci arrivo più da chissà che cammino ma ci arrivo direttamente da u questo dipende dalla stima precedente di v dalla stima precedente di u che cambiano cambiano nel senso che partono da un valore alto e via via possono diminuire il peso dell'arco di questo 2 invece è una costante non può cambiare durante l'algoritmo quindi vedete che questo 9 l'ho fatto diventare 7 avendo considerato rilassato come si dice questo arco questo è diventato 7 e quindi eventualmente qualche arco uscente a sua volta può essere rilassato perché questo peso è diminuito in quest'altro esempio invece dove v lo sapevo già raggiungere con un costo 6 se considero quest'arco u lo conosco lo so raggiungere con peso 5 l'arco vale 2 5 più 2 fa 7 non mi conviene modificarlo e quindi questo rimarrà a 6 e rimarrà con il predecessore che aveva già prima quest'arco qua non lo uso quindi ripeto questa operazione diciamo così alla nausea fin tanto che non trovo più nessun arco da da rilassare di conseguenza il D che avrò alla fine dell'algoritmo sarà uguale ai delta questo è un principio comune a tutti praticamente tutti gli algoritmi di cammini minimi perché si guarda queste proprietà di disuguaglianza i vari algoritmi che esistono variano nella strategia con cui applicano questo metodo cioè in che ordine li valuto questi archi da quale parto parto dalla partenza parto dall'arrivo hanno caratteristiche diverse e quindi possono avere complessità cioè tempi di esecuzione diverso e magari anche applicabilità diverse vengono usati con strategie diverse secondo che io sia un sorgente unico a tutti i sorgenti contemporaneamente e così via ma alla fine usano tutti questa proprietà e soprattutto usano strategie diverse per evitare i casi difficili i casi malati i casi malati di un grafo cioè per un cammino minimo è se ci sono degli archi con peso negativo allora un archi con peso negativo fisicamente non ha molto senso perché vuol dire che per andare a una città o un'altra risparmio benzina anziché farla però per carità adesso con le auto elettriche se c'è una strada in discesa può anche darsi che io accumulo l'energia anziché spenderla facendo un certo tipo di percorso però non tutti gli algoritmi sono in grado di lavorare con archi negativi dipende dalle assunzioni che fai nell'ordine in cui consideri gli archi e poi ci sono dei casi ancora più pericolosi in cui ho dei cicli negativi vediamo poi un esempio dopo e quindi per un problema che in realtà è lo stesso problema trovate nella libreria J.Grafty una videata in mezza di classi diverse che risolvono il suo problema con modi leggermente diversi cioè tutti implementano un'interfaccia che si chiama shortest path algorithm che se andiamo a vedere questa interfaccia vedi che quante classi ha che lo implementano in realtà ci sono altre classi che fanno lo stesso lavoro ma non implementano veramente questa interfaccia per ragioni loro ma cosa fa questa interfaccia ha un metodo che si chiama get path a cui passo una sorgente una destinazione e mi da un oggetto graph path che è una lista oppure volendo ho un metodo che si chiama get path con la S plurale in cui do un sorgente e lui mi da una lista di cammini in una struttura dati che si chiama single source path che si è definito quindi tutte queste classi hanno questo metodo get path che non vuol dire che ogni volta che chiamo il metodo ricalcola il cammino minimo magari l'ha calcolato all'inizio e poi semplicemente mi restituisce il risultato tutti i calcoli li ha fatti una volta sola alcune classi fanno i calcoli al costruttore cioè quando costruisco la classe alcune classi invece fanno i calcoli la prima volta che chiamo questo metodo e poi le volte successive non più e quindi questo è diciamo di fatto l'interfaccia definisce solo questo metodo qua e tutti questi classi implementano questo metodo qua e nel costruttore avranno dei parametri diversi secondo un po' delle loro strategie ci sono algoritmi diversi in cui non entro nel dettaglio entro un pochino nel dettaglio solamente di uno che risolvono il problema appunto da punti di vista diversi ad esempio questo calcola gli all pairs tutte le coppie di cammini minimi contemporaneamente qui in questo disegnino fa vedere che ci sono delle matrici che sarebbero il nostro pi greco il nostro predecessore solo che anziché essere una colonna sola ho tante colonne perché sto in parallelo processando tutti i punti di partenza contemporaneamente ma al di là dell'algoritmo volevo solo farvi vedere che qua dentro queste tre righe qua riconosciamo non lo leggiamo benissimo questo zoom ma riconosciamo l'operazione di rilassamento e questa operazione di rilassamento che viene ripetuta più volte è dentro un triplo loop e qua dentro non ci sono altri if non ci sono altre condizioni un algoritmo semplicissimo fa un triplo loop e quindi di fatto ha un tempo di esecuzione che è sempre uguale al cubo del numero di vertici v cubo e mi dà tutti i cammini minimi tra qualunque partenza e qualunque arrivo indipendentemente dal numero di archi del grafo da quanto è denso eccetera dal grado di vertici la compagnità è via il cubo può essere comodo o essere certi altri algoritmi invece dipenderanno dal numero di archi vabbè qui fa vedere alcuni passaggi ma non entriamo nel dettaglio ovviamente dentro J.Groftich abbiamo questa classe che si chiama Floyd Worshaw Shortest Path che fa poi c'è un altro algoritmo vi accenno Bellman Ford Moore è un altro famoso questo ragione invece il problema single source funziona sempre ma non se ci sono dei cicli negativi il ciclo negativo tipicamente è un ciclo in cui quando torna vertici di partenza ho un costo minore di quando ci ero entrato e quindi l'algoritmo qualunque algoritmo tenderebbe a ciclare lì all'infinito perché ogni volta che faccio un giro in più ci guadagna qualcosa e quindi di fatto sarebbe il ciclo la distanza minima non esiste non esiste una distanza minima perché ogni percorso può essere sostituito da uno più breve facendo un giro in più nel vortice negativo e la distanza minima sarebbe meno infinita in questo caso ma non esiste l'arco allora ci sono alcuni algoritmi che in condizioni di questo genere si ingluppano o mi danno il risultato errato altri algoritmi come questo che non mi danno la risposta esatta perché non può esistere ma perlomeno si bloccano non entrano in un gruppo di nuovo questo è un altro pseudocogico che ho trovato di questo algoritmo qua riconosciamo il rilassamento e qua vediamo che ha un ciclo sui vertici quindi il rilassamento viene ripetuto con un ciclo sui vertici e per ogni vertice un ciclo su tutti gli archi del grafo quindi questa avrà una complessità che è proporzionale al numero di vertici moltiplicato al numero di archi o il grado medio e poi invece entro un pochino più nel dettaglio nell'algoritmo di Dijkstra che è uno dei più famosi almeno mi piace di più che è molto più efficace efficiente scusate come tempi di esecuzione e si basa però su un'ipotesi aggiuntiva che i pesi siano tutti positivi o nulli vabbè qui non devo avere neanche un arco negativo altrimenti l'algoritmo mi dà il valore sbagliato in questo caso l'algoritmo greedy vuol dire che lui considera ogni vertice una volta sola negli algoritmi precedenti lo stesso arco può essere rilassato più volte perché nel frattempo cambia la stima del vertice di partenza allora D'Astra cosa dice ma io se riusci come faccio a imparare a non rilassare un arco fino a quando non sono sicuro che il vertice di partenza abbia già il peso minimo cioè lui cerca di ritardare il rilassamento di un arco il più possibile più lo ritardo meno dovrò rilassare una seconda volta e quindi si costruisce di fatto una coda prioritaria in cui inserisce gli archi di rilassare in base alla priorità e questa priorità è data da quanto è bassa il suo costo del vertice di partenza facendo così è sicuro che una volta che prende un vertice lo prende nel momento in cui tutti i vertici predecessori hanno già la distanza minima calcolata e questo lo rende più efficace quindi qua abbiamo una coda prioritaria Q non entro nel dettaglio del pseudo codice racconto solo l'idea una coda prioritaria in cui ci metto dentro tutti i vertici e ogni volta estraggo il singolo vertice la cui distanza è minima rispetto alla sorgente quindi quello vuol dire vuol dire che la prima volta estrarò solamente la sorgente che è distanza zero da se stessa prendo la sorgente e vado a considerare tutti i vicini della sorgente faccio una cosa che gli altri non fanno guardo avanti guardo i vertici dopo e di questi vertici dopo li rilasso solita istruzione e li metto nella coda poi vado a estrarre di fatto al secondo giro estrarò uno dei diagliacenti della sorgente quale? quello che è la distanza minima 0 più il suo arco e quello che è la distanza minima sarà di sicuro non potrà essere migliorato ulteriormente non ci sarà un percorso da 2 che porta a quel vertice lì più che abbia un costo minore perché se ci fosse un percorso da 2 avrebbe il primo elemento di questo percorso da 2 che è adiacente alla radice che ha un costo minore e quindi lo tirerei fuori prima della coda prioritaria no? D'Aistra è uno della mente sottile e quindi funziona così il suo algoritmo parto da A e dico tutti gli altri vertici hanno distanza infinita queste sono ipotesi di pesi qual è adesso il vertice che ha peso minore? A tiriamo fuori A e quindi assegniamo un peso a B e C B avrà un peso 10 C avrà un peso 3 quindi estraggo A do un peso a B e C adesso tra B e C da chi mi conviene andare avanti? Da C perché magari B trovo un modo più breve per raggiungerlo dopo e allora parto da C e vado a vedere i suoi successori i successori C sono B che a questo punto 3 più 4 fa 7 migliora da 10 a 7 sono D 3 più 8 fa 11 che è sempre meglio che infinito e 3 più 2 fa 5 che è sempre meglio che infinito e quindi estraendo il 3 che è il minimo troverò dei nuovi valori per B D e D a questo punto è la volta di B no l'ho migliorato ma chissà se lo posso migliorare ancora di sicuro E non è più migliorabile è il più piccolo tra quelli rimasti e allora vado a considerare gli altri uscenti da E che c'è solo quello verso D 5 più 9 non è migliore di 11 quindi E lo metto da parte lo prendo ma non mi serve per migliorare nulla l'ho tolto e mi rimane B e D a questo punto chi ha il minore B e così via 7 più 2 fa 9 quindi mi migliorerà D e gli archi che vanno verso i nodi già presi non li considero neppure perché quelli già presi li ho già presi col valore minimo non è possibile che possa usare che scopra ancora un arco che mi migliori quei valori lì proprio perché ogni volta è stato il minimo e gli archi non hanno mai un peso negativo qui entra in gioco l'ipotesi e quindi estrarro 7 che mi migliora D lo fa diventare 9 e ho finito e qui ho tutti i cammini minimi i pesi minimi questo è l'algoritmo di Dijkstra che cosa fa ogni volta considera una volta sola ogni arco e ovviamente tutte le coppie di vertici ha una complessità che è data dal calcolo del minimo lui per ogni vertice qui estrae da una coda questa coda contiene tanti elementi quanti sono i vertici ed ogni volta calcola il minimo della distanza calcolare un minimo tipicamente è un'operazione che ti chiede scandire tutti i vertici quindi V moltiplicato il ciclo wild che viene eseguito V volte quindi sarebbe V al quadrato ma se questa la implementiamo come coda prioritaria il tempo di estrazione non è più proporzionale al numero di vertici ricordiamoci l'ip come è fatto è proporzionale al logaritmo del numero di vertici e quindi ha una complessità più bassa di tutti gli altri perché è V per log V se il grafo non è particolarmente denso quindi non ha V quadro vertici e non è dell'ordine di V quadro ma dell'ordine di V per il grado medio ho un V log V anziché un V al quadrato anziché un V al cubo quindi per questo è diciamo così la prima scelta se non ho archi negativi è questo algoritmo di Dijkstra anche lui ha la sua implementazione che è ovviamente compatibile con gli altri quindi qui c'è uno schemino riassuntivo alla fine il risultato che calcoliamo è sempre lo stesso e l'interfaccia quindi i metodi che dobbiamo chiamare sono sempre gli stessi ciò che cambia è l'efficienza e le ipotesi sul tipo di grafo che vengono fatte per il resto è un risultato lo stesso alcuni sono più efficienti di altri su alcuni tipi di grafi oppure altri non dimentichiamoci ovviamente l'ultima riga la semplice visita dell'ampiezza che è una complessità lineare numero di vertici però funziona solamente se il grafo non è pesato è l'unico che ha senso se un grafo non è pesato quindi a volte quando uno dice trago il cammino minimo si butta subito su questi algoritmi qua e poi dopo scopre che il grafo non è pesato si è complicato la vita ok allora proviamo magari ad applicare questo io questo problema del calcolo dei cammini minimi su un esempio di esercizio e io prenderei come esempio l'esercizio dei treni di Parigi che avevamo già risolto l'avevamo risolto sotto forma di grafo non pesato ok quindi mi trovava i percorsi che avessero il numero minimo di fermate adesso possiamo anche spingerci un pochino oltre e dire guarda che abbiamo delle informazioni aggiuntive non è detto che tutte le fermate siano equivalenti io ad esempio delle fermate conosco la posizione geografica le coordinate e quindi posso conoscere la distanza tra due fermate la distanza tra due fermate supponiamo di calcolare in linea d'aria poi per carità siamo sotto terra e non nell'aria ma se devo scavare probabilmente scaverò più o meno dritto quindi tra due fermate potrei trovare un percorso che minimizzi la somma delle distanze delle varie tratte e quindi mi costruisco un grafo pesato non un grafo non pesato sullo stesso tipo di vertici se voglio essere ancora un pochino più fine posso considerare che tra le varie stazioni ci sono linee di metropolitana diverse che hanno velocità diverse vedete che alcune vanno a 55 km all'ora altre vanno a 35 beh questa non la prendiamo che va a 3 altre vanno a 18 e così via quindi io potrei pesare l'arco non con la distanza tra due stazioni ma col tempo necessario ad andare da una stazione all'altra facendo distanza diviso velocità il peso può essere cose diverse chiaramente o potrei addirittura contare che tener conto che alcune linee passano ogni 5 minuti altre linee passano ogni 15 minuti quindi ci potrei anche nel peso dell'arco potrei pesarci anche un contributo dato dal tempo medio di attesa se devo prendere quella linea devo aspettare in media 2,5 minuti o 7,5 minuti se prendo questa e così via quindi non è univoco capire quale valore usare come peso ma posso pesare in modi diversi e di conseguenza i percorsi che troverò minimizzeranno una quantità diversa la distanza percorsa il tempo percorso il tempo percorso tenendo presente dei tempi di attesa e così via ok adesso non passiamo i tempi passiamo solo la distanza sia per ragione di tempo nello svolgere l'esercizio sia perché per tenere conto della velocità delle linee dovrei fare i conti col fatto che due stazioni possono essere connesse da più linee diverse allora dovrei capire quale linea la velocità di quale delle linee la minima dovrei tenere conto di tutte le linee diverse se voglio tenere conto del tempo di attesa se io salgo sulla linea 1 e continuo il tempo di attesa ce l'ho solamente quando salgo se invece faccio linea 1 poi linea 2 poi linea 1 poi linea 2 il tempo di attesa ce l'ho ogni volta che cambio allora a quel punto dovrei ricordarmi su quale linea sono per andare avanti ciò che sto dicendo è che per arrivare a tener conto di questi fattori dovrei costruire perlomeno un multigrafo in cui tra ogni vertice ho più archi e questi archi sono etichettati non solo con la loro distanza ma anche con la linea e poi mi devo complicare un po' l'algoritmo per farlo semplice ignoriamo diciamo così le velocità di percorrenza e teniamo però magari conto delle distanze tra le fermate in linea d'aria ok quindi facciamo la metropolitana dei neutrini che attraversano la terra in linea retta allora io mi sono fatto un branch che si chiama cammini minimi a partire dall'esercizio che facevamo in precedenza per poterlo modificare e diciamo che controller l'interfaccia grafica non cambia nulla ciò che cambia è il grafo che costruisco e l'algoritmo che uso per calcolare il cammino minimo il grafo lo costruivo ovviamente nel modello che è qua questo progetto avevamo imparato i vari metodi per costruire il grafo alla fine eravamo rimasti sull'ultimo che aveva la query che mi dava tutte le coppie di vertici adiacenti e costruivo un arco per ciascuno di S quindi possiamo visto che stiamo facendo un'altra cosa buttare via le cose vecchie e tenerci solo questo che è il metodo più efficiente per creare il grafo adesso però dobbiamo cambiare il tipo di grafo non è più un grafo non pesato ma diventa un grafo pesato come fare? e beh semplicemente nel costruttore del grafo anziché default edge usiamo un default weighted edge default weighted edge mi dà un grafo pesato con un numero reale se mi servisse qualcosa di più complicato devo fare una sottoclasse default weighted edge e poi aggiungisci gli attributi che mi servono ma in questo caso mi basta un default weighted edge qua e ovunque ovviamente la parte noiosa è quella di modificarlo ovunque nel class del costruttore poi magari la importo questa classe qua che dite al posto dell'altra dove sono gli import qua togliamo l'altra così mi dà errore dove l'ho usata ed è più facile eccola qua da trovare qui c'è un default weighted edge ah qui ho cancellato troppa roba vabbè possiamo perdere del calcolo dei tempi che avevamo usato quindi questa è la costruzione del grafo uguale a prima l'ho solo creato come grafo pesato adesso devo però aggiungere anche il peso perché finora ho aggiunto gli archi ma non ho aggiunto il peso agli archi ok allora il peso agli archi lo posso aggiungere in due modi diversi usando jgraph t il primo è ricordarsi che il metodo add edge quando costruisce un arco mi restituisce un oggetto di tipo edge in questo caso default weighted edge un grafo pesato e su questo oggetto arco posso settare un peso quindi in realtà quello che dovrei fare mettiamoci una graffa potrei salvarmi questo arco oh mi sono mangiato il dis e poi aggiungo il peso a quell'arco lì quindi avrò this punto grafo punto set weight set edge weight un metodo set edge weight imposto prende come parametro l'arco che è quello che ho appena aggiunto e ci mette il peso beh qui c'è zero perché il peso non ho ancora calcolato adesso dovrò calcolarlo come distanza chilometrica eccetera poi devo fare attenzione a come costruisco il grafo perché se io faccio un add edge tra due vertici mi aggiunge l'arco e mi restituisce l'oggetto arco ma se faccio un add edge tra due vertici che sono già connessi e può capitare soprattutto se ho un grafo non orientato e mi trovo lo stesso arco dall'altro lato add edge se ne accorge e mi restituisce null e se io provo a fare set edge weight su null mi ritorno uno schiaffetto indietro quindi dovrei dire per sicurezza se aggiungo un arco che c'è già add edge non lo aggiunge perché già lo trova e quindi non ho il valore di e ma l'ho già messo prima l'alternativa l'alternativa è controllare prima se l'arco c'è e aggiungerlo solamente se non c'è ma è la stessa cosa o un caso particolare oppure il mio DAO mi ha spergiurato di non darmi mai due vertici una coppia di vertici più di una volta però in generale questo dicevo ci sono due alternative perché come tutte le cose antipatiche tutte no purtroppo dentro graphs abbiamo già un metodo che si chiama aspetta eh add edge è questo qua add edge quindi c'è un metodo add edge non usiamo quello del grafo di this.graph ma usiamo quello della classe utility graphs e questo add edge ha come primo parametro il grafo come secondo parametro il vertice di partenza che rubiamo da qui il terzo parametro sarà il vertice d'arrivo il quarto parametro è già il peso quindi lui dentro la pancia fa già quel lavoro di prima delle due istruzioni precedenti è uguale la prima la prima di due che ci ricordiamo va bene fanno esattamente lo stesso lavoro ok magari visto che siamo pigri usiamo la seconda ma per usarla devo calcolare il peso allora se per me il peso abbiamo detto che deve essere la distanza in linea d'aria tra due stazioni e di queste due stazioni conosco le coordinate geografiche latitudine e longitudine che ho codificato attraverso un oggetto di tipo lat long lat long è questa semplice libreria che abbiamo trovato che di fatto va dentro questo oggetto qua è qualche metodo di utilità per poterci lavorare comodamente e in particolare scusate devo tornare nel model c'è un metodo statico lat long tool scusate c'è una classe lat long tool che ha dentro dei metodi statici tra cui uno che si chiama distance quindi anziché metterci a fare calcoli trigonometrici astrusi li fa lui o lei dipende distance forse lei che riceve come parametro due oggetti tipo lat long quindi potrebbe essere la coordinate e l'attitudine e la longitudine delle due stazioni e un terzo parametro che lui la chiama length unit perché mi sono perso il tooltip length unit cioè l'unità di misura in cui voglio esprimere questa distanza cioè metri chilometri cose del genere quindi io posso farmi calcolare un bel double passandogli questa coppia di questo grafo di partenza quello di arrivo get partenza punto get coordinate course virgola l'arrivo le coordinate della stazione di arrivo quindi coppia punto get arrivo punto get course e le unità di misura che saranno qui mi offre i nodi miglia nautiche ma per fortuna ci sono anche i metri oltre l'unità di misura di fantasia o chilometri come volete tra metri chilometri c'è un fattore mille lo sappiamo tra nodi e miglia nautiche non me lo chiedete quindi questa distanza qua diventa il peso che appicchiamo all'arco e poi magari ci metto un punto di rigola giusto per avere il commento fatto bene lo metto anche qua ok quindi in questo caso due problemi sotto problemi minimi uno è creare il grafo col peso e pesare il grafo e l'altro prima è calcolare quanto debba essere questo peso in questo caso era facile perché lo potevamo calcolare a partire dalle informazioni che già avevamo dentro i vertici in altri casi magari ci tocca complicarla a query perché per ottenere questo peso dobbiamo fare qualche calcolo nel database oppure qualche altra procedura più complicata facciamo solo un run di sicurezza di non aver introdotto dei pasticci qui c'è un rosso da qualche parte quindi dov'è che sei rosso caro mio ah sotto tanto questa è da buttare via però facciamo un run di prova almeno sulla parte di creazione del grafo infatti vedi che cosa ho fatto di male secondo voi allora lui mi dice unsupported operation setage weight in graph.java 61 scusa prima model punteggiava 51 questa operazione qua lui dice che non è sopportata e non mi dice perché ovviamente perché è gentile quindi questa cosa qua potrebbe essere non supportata se il grafo fosse non orientato non pesato ma è pesato ah no certo scusate non può essere un simple graph è un simple weighted graph sto cercando di mettere un arco pesato dentro un grafo che non è pesato anche il tipo di grafo devo cambiare si chiama così simple weighted graph si chiama così allora avevo sbagliato l'h di weighted l'avevo messa in un punto a caso oh non mi vergogno di usare google perché anche voi lo potete usare all'esame quindi adesso dovrebbe funzionare meglio ok quindi creare il grafo sembra che sia tutto uguale ma in realtà la mia speranza è che dentro il grafo ci siano i pesi dentro gli archi del grafo a questo punto dobbiamo andare a modificare l'altra metodo di percorso che da una stazione di partenza c'è una stazione di arrivo mi calcolo il percorso minimo inizialmente lo facevamo con un grafo non pesato quindi ci andava benissimo la visita in ampiezza avevamo usato il breastfeed iterator vi ricordate poi avevamo usato il metodo per ricostruire il percorso il getspending through edge tutto questo lo dobbiamo buttare via perché questa volta dobbiamo usare un algoritmo di visita di calcolo dei cammini minimi non semplicemente di visita possiamo usare ad esempio il nostro algoritmo di Dijkstra che abbiamo visto prima abbiamo una partenza un arrivo non dobbiamo calcolare tutti i cammini quindi per il problema single source è uno più efficiente qua pesi negativi non ne abbiamo quanto si tratta di distanze geografiche quindi abbiamo un Dijkstra short path dove la parte difficile ovviamente è mettere le J e le K giuste creiamo una classe di questo tipo con V fermata ed E default weighted edge chiamiamolo sp new il nuovo DJ K eccetera eccetera e questo riceve come parametro cosa? il grafo quindi dis.grafo quindi ci chiamo l'oggetto sp che è l'oggetto che calcola i cammini minimi gli do il grafo e non gli do il vertice di partenza anche se so che lui lavora solamente a partire da un certo vertice di partenza perché sarà il get path quando lo chiamo a specificarci specificargli sia il vertice di partenza che quello di arrivo e quindi chiamerò sp.get path mi interessa quello dalla partenza all'arrivo con questo metodo lui applica l'algoritmo calcola il cammino minimo e mi restituisce sotto forma di un oggetto che è di tipo graph path quindi mi crea un graph path path anche qua fermata default weighted edge chiamiamolo gp per graph path adesso non sappiamo cos'è un graph path nel senso che noi dobbiamo passare una lista di vertici abbiamo questo graph path qua e cerchiamo di capire cos'è quindi avevamo già se non sbaglio da qualche parte jgraph t aperto andiamo dentro algoritmi shortest path avveghiamo un po' la documentazione il nostro dice tra shortest path mi restituisce un oggetto graph path vediamo un po' cos'è un oggetto graph path rappresenta un cammino in un grafo grazie e che metodi ha a get edge list dammi l'elenco degli archi dammi il vertice di arrivo dammi il grafo su cui il cammino giace lo so già dammi la lunghezza dammi il vertice di partenza o tu guarda dammi la lista di vertici e dammi il peso quindi direi che get vertex list fa per noi perché ci da ci converte già l'oggetto graph path in una lista di vertici ritorno nel cammino sotto forma di una sequenza di vertici che possiamo ritornare al nostro chiamante get vertex list quindi return graph path punto get vertex list una volta ogni tanto abbiamo un po' di fortuna nel senso che troviamo già il metodo che fa per noi modificando questo in teoria il resto del programma continua a funzionare abbiamo solo cambiato il criterio con cui costruiamo il percorso minimo quindi se faccio un run creo il grafo scelgo la prima la seconda in ordine alfabetico così sono facili da ritrovare faccio calcola e mi trova un percorso guarda facciamo così me lo copio da qualche parte è un percorso di in questo caso 21 stazioni totali comprese le due di partenza di arrivo quindi 19 segmenti se vogliamo fare una controprova possiamo provare a vedere cosa sarebbe successo con un cammino di lunghezza minima cioè se avessimo la versione precedente la versione precedente la possiamo simulare facilmente basta mettere tutti i pesi uguali a 1 se io vado un attimo a fare una modifica qua e al posto del peso vero che mi sono calcolato con tanta fatica ci scrivo 1 ho un grafo che è vero che è pesato ma avendo tutti i pesi uguali è come se fosse non pesato e l'algoritmo di Dijkstra ovviamente mi darà un numero di stazioni intermedie che speriamo non è per esempio sbagliato è più breve perché ha 15 fermate mentre il cammino di distanza minima in questo caso 21 fermate questa non è una dimostrazione che dia il risultato esatto bisogna andare a confrontare i numeri calcolare la lunghezza del cammino però si vede che il risultato tiene conto di un criterio diverso questo vuole anche dire se noi andiamo a confrontare adesso rimetto le cose a posto facciamo calcolare la distanza vera se noi andiamo a confrontare questo metodo percorso con quello che avevamo prima cioè qui sono tre istruzioni là avevamo una pagina e mezza di codice quindi pensiamo anche che a volte si possono usare algoritmi più complicati come questo perché sono più semplici da usare essenzialmente estrarre il percorso più facile perché è una classe pensata per far questo mentre l'altra è pensata per fare visita per visitare per vivere come lavorare come iteratore e se ricordate con l'implementazione precedente l'iteratore l'abbiamo fatto andare a vuoto e poi il lavoro l'abbiamo fatto dopo per estrarre i risultati dell'iterazione quindi abbiamo usato una classe in un modo che non era proprio stato pensato come scopo primario questo che è stato usato per questo chiaramente è più utile per questi scopi questo vuol dire che a volte ci possiamo anche un pochino fregare dell'efficienza che l'altro gli dà solamente la composità V e questo è V log V se log V non è tanto grosso per semplicità dei codici possiamo anche usare i cammini minimi su un grafo non pesato ecco dove non sarebbe necessario ma la comodità del codice su tre righe è difficile sbagliare introdurre tanti bachi mentre là avevamo diversi loop in sede di implementazione uno cerca di arrivare per prima il prima possibile una soluzione funzionante col minimo rischio di introdurre errori o complicazioni c'è sempre tempo a ottimizzare quindi per questo diciamo questo tipo di classi le usiamo nei due casi sia per calcolare i cammini minimi come lunghezza che minimi come il numero di archi ma ovviamente dipende da come ho scostruito il grafo cioè una volta che il grafo ci ho messo dei pesi non potrò più usare questo non posso dargli una funzione di calcolo dei pesi diversi ogni volta come fosse un sort a cui passo il comparatore però insomma mi risole già una serie di problemi quindi questo per quanto riguarda i cammini minimi sono tutti algoritmi che sono diciamo così efficienti di complessità polinomiale quindi non rischiamo mai di avere i tempi di recuzione esagerati mentre invece e questo è il bello degli algoritmi modificando di pochissimo diciamo così il tipo di richiesta la complessità del problema cambia enormemente ad esempio un ciclo che cos'è? un ciclo non è altro che un cammino che torna al punto di partenza e quindi c'è tutta una serie di altri problemi in cui anziché trovare un cammino minimo tra due vertici distinti già selezionati devo cercare se esiste un ciclo chiaramente se il grafo è ciclico all'interno del grafo e questo ciclo magari può avere il peso massimo o può avere il numero massimo toccare il numero massimo di vertici o magari un ciclo che tocca tutti i vertici o magari un ciclo che tocca tutti gli archi dipende chiaramente dal problema che sto affrontando tutti questi problemi chiaramente hanno un nome hanno un tipo di soluzione ad esempio un ciclo che tocca tutti i vertici di un grafo tutti i vertici una sola volta un ciclo semplice che tocca tutti i vertici è un ciclo Hamiltoniano detto anche volgarmente un tour un giro un giro che tocca tutte le città è il problema che devono affrontare nella logistica i trasporti tu hai un furgone che deve uscire tocca una certa serie di destinazioni e tornare al punto di partenza qual è il percorso migliore per toccare tutte le destinazioni arrivare al punto di partenza col costo minimo questo è il problema classico della logistica viceversa viceversa il problema con cui avevamo introdotto la teoria dei grafici e il problema dei sette ponti di Königsberg i ponti erano archi e quindi si chiedeva una ricordate fare una passeggiata tra tutti i ponti tornando al punto di partenza senza passare due volte dallo stesso ponte questo è un cammino che viene detto euleriano cioè una passeggiata in cui devo toccare tutti gli archi posso toccare due volte lo stesso vertice chiaramente ma l'importante è che usi gli archi una sola volta e in questo caso questo è un grafo che non permette di avere dei percorsi di questo non esistono percorsi che partano da un qualunque vertice arrivano allo stesso vertice di partenza attraversano tutti gli archi una sola volta c'è un teorema che dice che un grafo ha un ciclo euleriano se e solo se tutti i vertici hanno un grado pari cioè posso avere vertici con grado 2 con grado 4 con grado 6 ma qui ho un vertice con grado 3 e il buon senso dice che se io entro da qua esco da qua poi se devo anche passare da quest'arco ci dovrò rientrare e poi non posso più uscire sono bloccato qua poi per carità non è buon senso perché Eulero l'ha dimostrato infatti gli ha dato il nome a questo problema quindi il fatto che esista o non esista un cammino che tocca tutti gli archi è di una banalità incredibile basta contare il grafo se i grafi sono tutti pari esiste se almeno un vertice a grado dispari non esiste e se esiste si può trovare in un tempo lineare cioè l'algoritmo per calcolare e adesso qui non abbiamo tempo di farlo per calcolare i cicli euleriani è semplicissimo perché di fatto parti da un punto e vai a caso vai avanti a caso tanto sei sicuro che il cammino c'è quando ti richiudi su te stesso parti dal punto in cui sei arrivato e aggiungi un altro pezzo e poi li incolli tra di loro i vari pezzi che hai ottenuto è un po' più complicato di così ma è un algoritmo anche qua che di fatto ha una complessità polinomiale pare se non sbaglio a V4 scusa E per V perché dipende dagli archi mentre invece la ricerca dei cicli hamiltoniani cioè il problema del tour del viaggiatore è invece il classico problema di cui non si conosce nessuna soluzione con tempo polinomiale con algoritmi polinomiali se uno vuole avere la soluzione esatta di questi problemi ci butta dentro una ricorsione e poi muore perché deve calcolare tutte le possibili combinazioni possibili immaginabili quindi il problema l'abbiamo modificato di pochissimo anziché cammini aperti cerchiamo cammini chiusi aggiungiamo il vincolo che vogliamo toccare tutti i vertici tan siamo finiti all'inferno dal punto di vista algoritmico c'è un famoso teorema P diverso da P uguale a NP che dice che se tu riesci a risolvere in tempo polinomiale questo problema tutti gli altri problemi del mondo si risolvono in tempo polinomiale c'è un milione di dollari per chi ci riesce o che dimostri che non è possibile è uno dei problemi aperti dell'informatica teorica ma dal punto di vista dell'informatica teorica ce ne frega niente ce ne frega che se quando hai un problema concreto una soluzione devi pur trovare non puoi dire al tuo omino che è lì col furgone il motore acceso e ti chiede che giro devo fare e dici torna tra 200.000 anni te lo dico e allora cosa succede? che il nostro JGraphT non ha una classe che implementa l'algoritmo di ricerca dei cicli hamiltoniani perché non sarebbero niente se vuoi te lo implementi ricorsivamente ma una serie di classi che approssimano che ti danno le soluzioni approssimate in un tempo accettabile non hanno non si sono presi cura di implementare la soluzione esatta perché se il grafo ha più di 5 o 6 vertici di fatto non ci riesci e allora ci sono tutti vedete che si chiamano approssimato gridi vuol dire la prima che trovo va bene vado sul più vicino tu opto euristic vuol dire provo con un cammino e poi provo a scambiare tra di loro due vertici finché riesco a migliorare sono tutte euristiche approssimazioni ad esempio questa qua dice tu approximate metric dice se il grafo è metrico cioè soddisfa la disuguaglianza triangolare non è detto che lo sia se è un grafo di distanze topologiche sì se è un grafo invece di qualunque altra cosa potrebbe non soddisfarla ma se è così questa classe mi calcola un cammino che non è quello minimo ma mi garantisce che non sia mai il doppio di quello minimo cioè posso sbagliare ma non più del 100% poi c'è quest'altro che dice no ma io tre mezzi quindi al massimo 1.5 sbaglio del 50% sono approssimazioni diverse algorimi diversi questo qua ai tre mezzi funziona quindi da un risultato migliore ma ha delle ipotesi aggiuntive su come è fatto il grafo quindi dipende se il tuo grafo è fatto ipotesi che richiedono di leggersi due pagine di matematica per capirle e così via oppure questo completo vedete come under extra conditions cosa è successo i ricercatori per affrontare questo problema hanno trovato dei sottocasi in cui fosse trattabile fosse risolubile con modalità che non siano forza brutta e quindi abbiamo tutta una serie di alternative a seconda del problema qui è il caso in cui effettivamente uno dice forza brutta non lo risolvo devo andare a capire meglio il problema e trovare una soluzione che sia adeguata sapendo che probabilmente se non sono fortunato che il mio grafo ricadi in una tipologia di quelli che sono già stati studiati e risolti dovrò accettarmi dovrò accontentarmi di una soluzione approssimata e gli algoritmi di ottimizzazione approssimati sarebbero un bellissimo mondo ma le ore del corso le abbiamo finite e quindi ve le raccontate da soli o meglio io non riesco a raccontarveli in questo periodo ok con oggi abbiamo chiuso la settimana prossima faremo ancora un po' di temi di esame e vedremo insieme anche le soluzioni della simulazione che avete fatto chi ieri e chi oggi e idem la settimana successiva faremo la seconda simulazione faremo ancora poi temi di esame e l'ultima settimana del corso la soluzione dell'ultima simulazione nell'ultima settimana del corso non c'è il laboratorio ok quindi abbiamo solo più il laboratorio di questa settimana quello della prossima poi basta perché avete anche bisogno di un po' di tempo per studiare ok grazie ci vediamo lunedì prossimo grazie a tutti